Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirette da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat. Signori, ecco a voi le donne di Ararat. Signori, ecco a voi le donne di Ararat. Signori, ecco a voi le donne di Ararat, dirett da Sara Pappalato. Signori, ecco a voi le donne di Ararat. Signori, ecco a voi le donne di Ararat. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.